Ciao! Vi aspetto il 20 luglio al Teatro del Mare di Menfi per il mio spettacolo dal titolo Ciuri di Rosa, il mio omaggio a Rosa Balistreri, una grande protagonista della cultura siciliana. Con me sul palco ci sarà una straordinaria orchestra di 21 musicisti con grandi artisti come Giuseppe Minici all'Armonica, I Calandra e Calandra e Peppe Corsara alla Fisarmonica. Vi aspetto il 20 luglio al Teatro del Mare di Menfi. Ciao! Grazie!